Sono in fase di definizione trattative per l'accessione del controllo della società US Ancona. A comunicarlo è l'avvocato Stefano Giangrande per conto del presidente Tony Tiong, dopo la comunicazione formale inviata alla FIGC. La conclusione di vendita è attesa nelle prossime ore. Ormai non ci sopprendiamo più di nulla, per noi è rilevante. L'ennesimo colpo di scena nel caos calcistico che ha investito il capoluogo, che arriva contemporaneamente alla pubblicazione del bando del comune per costituire la proprietà della nuova Ancona. Fino alle 9 di mattina di lunedì prossimo, quindi lunedì 1, ci sarà la possibilità per costituite o costituende società di partecipare a questo atto, a questa manifestazione di pubblico interesse e con questo noi daremo massima trasparenza a quello che è in realtà una procedura che ci chiede la città. Silvetti tira dritto sul piano abbracciato ormai da giorni l'iscrizione alla Serie D in sovranumero con una nuova matricola. Come permesso a Palazzo del Popolo dalla Federcalcio, servono 400 mila euro entro il 4 luglio e i successivi adempimenti entro l'otto dello stesso mese. Se Serie D non sarà, bisognerà optare per il campionato di eccellenza, ma ora la cessione a firma Tiong rischia di rimescolare tutte le carte.